In ogni caso mi va bene, cioè mi sarebbero andati bene tutti sinceramente tra loro, perché tanto tutti e tre questi tizi devono assalirmi per combattere e le box sono molto forti. Forse Pantheon sarebbe stato... Allora, Pantheon sarebbe stato più pericoloso, ma sarebbe stato forse più carino per il fatto che lui ti salta addossi a W, quindi sarebbe proprio saltato dentro al fear. Comunque, questo pick lo dichiamo Apolloman, che ha giftato 5 save per chiedere un test del cui, quindi tradotto per chi fosse, diciamo, nuovo, il test del cui è il termine utilizzato per intendere lo shako a p. Lo shako a p. Quindi stiamo imparando, ragazzi. Invece il non o il tennista è il trundle crit. Che altri nomi abbiano dato i campioni, chat? Questi due, ecco. Questi due basta e avanza. Il Napoli crank, vabbè sì. Quello è intuitivo, quello è intuitivo, capito? Il Gennarin. Vabbè, però questi sono oggettivamente intuitivi. Cioè, uno che entra in live e dice Gennarin, sai, suona Garen, dice boh, sarà un Garen qualcosa. Napoli crank, Napoli e Blitzcrank. Però tipo, se ci pensate, il non. C'è gente, infatti, c'è qualcuno ogni tanto che dice, ma che cazzo è il non? Io dico, vai a vedere il... Ecco qua che mi fa il giro tondo. Ho fatto tutta sta strada per tenermi l'autoattacco. Allora, il problema è che il nostro campione fa cacare. Principalmente. Rispetto al suo, che è decisamente più forte. Ok. Ora noi ci facciamo pushare. Vabbè, uno per uno. Con la wave messa bene per me, lo accetto. Lo accetto assai. Ha usato anche il ghost. Va bene, va bene. Vabbè, il champ. Ha tirato i pugni sulla tastiera, ma ha corso addosso e mi ha ucciso. Però, sapevo che avrei rischiato. Purtroppo è successo. Non sono riuscito... Perché vuol venire top a fare cosa? Urbarmi il farm? Oh, ok. Viene. Expo del carretto presa. Purtroppo quello che è successo è quando lui si è beccato il fear della box. A me mancava ancora un secondo per piazzare la box di cooldown. Perché altrimenti cosa potevo fare? Una cosa che fai con Chaco P è... Un nemico si becca al fear. Tu appena si becca al fear piazzi la box. Appena finisce il fear della box parte il fear della seconda. E quindi lo incastro in questo mini loop di fear. E lì sarebbe andato diversamente. Però forse non moriva nessuno dei due. Meglio così. Un nemico si è beccato. Un nemico si è beccato. Ok. Ah, non so effettivamente con cosa startare. Bravissimo. Stavolta ci è entrato direttamente. A posto. Ok, bravo. Complimenti. Bella merda sei riuscito a fare. WP jungle. Ah, ok. Farla con Trandol. Ok. Vado back, dai. Tanto siamo prima del minuto cinque. Non penso la prenderei la plate. Con cosa starto? Un bel malignance, ragazzi. Oh, proviamo Chaco malignance. Proviamo Chaco malignance, ragazzi. Vediamo che merda ne esce. Così ho la ulti più spesso. E poi voglio capire una cosa. Secondo voi ci fregherà questo? Perché io sto pensando una cosa. Se il malignance procca con gli autoattacchi della coppia, vuol dire che potenzialmente il nemico sa sempre qual è quello vero e quello finto. Cioè, capito? Capito? Funziona solo quando scoppia. Ok, ok, ci sta. Vabbè, guardate che non è male. Perché la cosa bella di Chaco è quando la ulti scoppia, parte il fer istantaneo. Capito? Non ci sta. Vediamo se c'entra per la settima volta. Diamo gli fastidio. Tanto abbiamo anche i biscotti per il mana. Mia cugina si stroffina i miei occhiali sotto le sue ascelle. Giorni. Ok. Diamogli ancora un po' di fastidio. Zic! Bel fastidio. Un bel fastidio abbiamo dato. Seek! Maledizione l'ha tankata questa. Ecco qua. Visto? L'ignite mi è partito per sbaglio. Avete visto il loop? Come funziona? Lui ha preso il fear della prima box. E intanto vi ho appazzato la seconda. Molto molto forte sta cosa di Chaco AP. Una delle cose più forti che ha. Una delle poche cose forti che ha. Ok. Sorry! Vai, Malignans. Ok. Ah, qua tipo. Rune, eccole qua. Chat, per adesso cosa ne pensate il test il qui? Lo ha passato o non lo ha passato il nostro eroe? Io forse un'idea ce l'ho. No, non lo ha passato, va bene. Oh. Cioè, pensate... Il campione rispecchia perfettamente il player. Cioè... Proprio stupidamente mi insegue... Così. Niente, sto minion ha deciso che... Sono il suo peggior nemico. SICK! Ok. Devo tenerli lontani dalle box. Mi sa che si è un attimo spento. Si è un attimo spento il ragazzo. SICK! Ti faccio davvero poco danno. Qua c'è sempre un minion che tipo... Passa tutti gli altri per venire a darmi fastidio. Guardate. SICK! E niente. Abbiamo passato, abbiamo passato... Sciacco è passato, sciacco è passato... Allarme, allarme generale! Allarme! Grosso allarme! Grosso allarme! Pugnale! Grosso allarme dello sciacco che è riuscito a passare la dogana! Sacchete! Mmm... Fecechiamo un bel cespuglino. Cosa potrebbe mai andare storto? E che fa... Eh niente, mi è hittato col Tiamat. Oh, oh! Che saudi! Tana! Test dei cui... Assolutamente non passato! Beh! Aia! È vero che può fare ste cose, devo stare attento. Pusciamo sta waves. Vai, Vex, ci sei quasi. An ally has been slain. Beh. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Eh, ma li usi i biscotti? L'ho usato uno prima. Ecco, lo tenei per il mana. Ora non penso mi serviranno più, però. Allora. Mmm... Senza pensarci troppo. Liandri, dite? Oddio, c'hai ragione, effettivamente. Però la zona mi ispirava tanto, considerando i giuche che posso fare. Ma possiamo fare entrambe, ovviamente. Allora... Eh! Peccati questo! Eeeh! Si vede che non è un udere della tempesta, ragazzi. Non fa assolutamente danno. Oh! Oh, oh! Oh! Arrabbiato! Ok. Oddio! 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 Minchia, è vero che c'aveva... Zink! Avete visto che li ho mangiati i biscotti, ragazzi? È stato un momento di panico perché non si è fierato il ragazzone. Problema risolto. È lo sciacco del QI. Per adesso testa il QI estremamente bocciato. Ma tanto bocciato, ragazzi. Partito l'inseguimento. Grazie, Tommy. Quanto è bello quando parte l'inseguimento di sciacco. Ma sciacco è sempre divertente. Non ci si può fare nulla. Non è particolarmente forte come champion, però quanto cazzo è divertente. Come se è contro avversari sciocchi, stupidi, stolti e soprattutto poco svegli. Mi ha lanciato la tempesta, la tempesta! È tornato! Dove è andato? Si è fermato un attimo per cercare di capire. Lasciamo questo regalino per quando si farà il red buff. Se me lo trovo qua davanti? No. So io dov'è. So io dov'è. Ok. 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 Test del cui non passato. Zic! Oh. Si è accorto che c'è qualcuno. Ok. E' sempre stupendo, ragazzi. Sempre spettacolare. Che tragedia, confermo. Confermo. Non posso che confermare dinanzi a questa verità. Bec. Ogni volta è divertente, è bellissimo. Grazie J-Bot per il sub, Tommy. Grazie al sub siete stati molto gentili. Spero vi stia divertendo questo test. Il cui vedo comunque abbiamo un trundle 6-0. Leggermente fiddato al nostro compare. Beh. Se non noi l'avrebbe cariata lui. Perché non parli sul main? Perché non mi diverte giocare sul main. Non giocherò spenserato come qui. E anche perché Shack of P si basa sul... Si basa sulla stupidità degli avversari. Quindi sul main non funzionerebbe. Cioè io piazzo le box. Quelli non ci entrano giustamente. E' comunque fattibile, per carità. Se uno è molto bravo ce la può fare. Basta guardare Pink Ward. Però boh. Cioè. Il nostro motto è Abuse i più deboli. Cioè. Hashtag divertimento. Spito. Ha ciucciato, ha ciucciato. Ho visto. Con lo scaffo. Buonasera a todos. Come va? Ok. Ora ci divertiamo. Iniziamo a piazzare un po' di box qua. Vedete che strage. Guardate che danni che faccio alla torre. Ecco qua. E comunque anche Shack of P una volta che c'ha un po' di setup. Proxa benissimo. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Vai. Ok. Ok. Mi piace comunque l'impegno che ci sta nominando. Vai, è tornato! Tester il cui non passato. Voti inesistenti. Non è stata raggiunta la quota necessaria per passare il test del cui è. Ma quella per ottenere la pensione di invalidità raggiunta a pieno. Bravi avversari, così si fa. Mio, grazie. Sendinami lane è tutto mio. Via. Via. Eh, non lo so quanto danno ha fatto il malignance, sinceramente. Non lo so. Vabbè, ragazzi, lo so. Io sono un esaminatore un po'... Come si dice, oneroso. Io necessito di... Come si dice, il test è molto difficile, capito? Minchia, Pantheon top, ma che è un combinato dall'altra parte? Pantheon doveva essere il mio laner. Do sto tizio. È in game, lo so, che se ci passo il mouse in game. Sì. Do sto tizio.